Porta la firma di nove consiglieri comunali, democratici e socialisti la richiesta di attivazione della quinta commissione consigliare permanente di controllo e garanzia. La questione è la gestione degli impianti sportivi, Santa Giuliana, Pellini e Palasporti Evangelisti, con quest'ultimo a dominare l'attenzione a fronte del rischio che la Sirvolley migri altrove Perugia perda la Serie A1. Rischio messo in evidenza da Diego Mencaroni, capogruppo PD, che ha parlato di grave danno per la città ma anche l'importanza fondamentale degli impianti per lo svolgimento delle attività sportive, sottolineato anche lo stato di degrado degli stessi. Ripercorso l'intero ITER a partire dal bando dell'agosto 2015 e il successivo affidamento a Cronogest nel mese di dicembre, una società, detto il consigliere PD Tommaso Bori, costituita proprio ad agosto 2015 con un capitale sociale di 10.000 euro. Ad oggi abbiamo attivato la commissione controllo e garanzia perché risulta, e vogliamo approfondire e capire meglio, risulta da una serie di accesso agli atti che ci siano dei problemi sia sul contratto che sulla gestione che sui rapporti con i dipendenti che dovrebbero appunto gestire gli impianti sportivi. Noi vogliamo chiarire perché siamo da parte dei lavoratori, dei cittadini e degli sportivi che vorrebbero praticare i propri sport negli impianti che il Comune di Perugia offre e che hanno delle grosse difficoltà. Le società sono sempre più in difficoltà e non riescono a rapportarsi adeguatamente con chi ha vinto questo appalto su cui c'è molto da ragionare. Presente in conferenza a confermare la problematicità del rapporto con la società di gestione il general manager della SIR, Rizzuto.